poi dopo due giorni buttare l'altro quando premere non esce niente perché limone dura quella no fantasello piccolo qua ti metti dentro del limone o anche l'arancia al limone giri devi girare fino al fondo apre il tappo premere qui esce il succo senza semi quando c'è là il bisciolino a casa fai il limone a pesce quando cucinare il cane al forno fai il limone al cane è buonissimo il cane caldo con il limone il tappo lo metti nel frigo dopo dieci anni e il limone ancora buona però il cane morto il frigo rotto il limone ancora buona perché c'è il tappo e l'altra qui numero due insieme accendi accendi quella lì numero due per fare le patate quella le metti dentro la patata poi spin e vai avanti spin e vai avanti entra la patata spin e vai però devi uscire dall'altra parte dalla patata se ce la fai si ce la fai li va il manico qui li va a porre il ferro l'altra parte lì ma non tira devi svidare la patata perché la patata non si tira la patata si svita qui la fanno fritta nell'olio perché escono due se non vuoi fa fritta famo il forno quel pollo e sta il pollo quella patata quella è negro africano quella è la polla melanesi quello salvino non voleva il nero e scusare la polla bianca qui metti carne tonno salsiccia ripiena se no infili la carota dentro la patata guarda bene non ti ricordi più carota le mettono così dentro la patata e fai le carote insieme con le patate al forno quel camello con il pollo patata al forno puoi cucinare carota insieme con patata e sta qui quella è numero due perché uno uno fare il succo del limone anche l'arancia uno fare la patata guardandolo tre è qui qui c'è anche il video su youtube a casa vuoi vedere youtube spiegazioni in youtube c'è anche l'assistenza mi chiami io vengo a casa ti metti dentro la patata e c'è uno due tre quattro cinque e il dito metti questo non devi sbagliare il dito metterla e vai così venga una patata succhina cetriolo qui una prima domani se vuoi esce pure la sera fa la collana vuoi fare la decorazione la vuoi fare la chips apre il tassello così vengono chips mi ama non mi ama mi ama non mi ama mi ama non mi ama felicità se vuoi pulisce anche l'orecchio spinne un po' giro esce il cervello se c'è che non c'è non è colpa mia è quella così è quella tutti i tre insieme qua costano 10 se avranno due 15 perché roba rubata al vaticano roba rubata al vaticano